Francesca Dei, da 42 anni, scomparsa da diverse settimane da San Sperate, un paese nel sud Sardegna, a circa 20 chilometri da Cagliari. Le indagini si concentrano sul marito Igor Solai, 43 anni, attualmente in carcere, con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. La denuncia di scomparsa, presentata a metà maggio dal fratello di Francesca e una collega, ha avviato le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Iglesias. Le dichiarazioni di Solai non hanno convinto gli investigatori, portando il PM del Tribunale di Cagliari a disporre il suo fermo. Nonostante la sua insistenza sull'innocenza e le stranità ai fatti, le sue versioni non hanno retto sotto le indagini. Solai, autotrasportatore, ha sostenuto che la moglie si fosse allontanata volontariamente per una pausa di riflessione, giustificando così la sua mancata denuncia, dato che già lo aveva fatto il fratello di Francesca. Tuttavia le sue affermazioni sono state contraddette dall'analisi delle tracce informatiche, dimostrando che Solai avrebbe utilizzato il telefono della moglie per mantenere l'illusione che fosse ancora viva, scambiando messaggi con amici e parenti e persino inviando una mail al datore di lavoro di Francesca per annunciare il licenziamento. La casa della copia è stata posta sotto sequestro, mentre continuano le ricerche del corpo della donna. Nonostante la mancanza del corpo, le evidenze raccolte dagli investigatori, tra cui incongruenze nelle dichiarazioni di Solai, hanno portato alla sua detenzione. Gli inquirenti hanno escluso l'ipotesi di allontanamento volontario, focalizzandosi invece sulle dinamiche familiari e sui comportamenti del marito, prima e dopo la scomparsa. La decisione del giudice sulla misura cautelare nei confronti di Solai è attesa nelle prossime ore.